In questo breve tutorial di InDesign vi mostrerò come invertire il contenuto delle righe e delle colonne presenti in una tabella di InDesign. Supponiamo di dover invertire il contenuto di questa tabella codice descrizione quantità prezzo e voler mettere questi contenuti in verticale e invece il codice e il resto in orizzontale. Possiamo procedere copiando il contenuto di tutta la tabella all'interno di Excel. Selezioniamo una cella di Excel, incolliamo i contenuti e dobbiamo nuovamente copiare questi contenuti per attivare l'opzione di incolla speciale che è presente in Excel. Infatti basta posizionarsi su una nuova cella e andare nel menu modifica in colla speciale attivando l'opzione trasponi. Questa semplice spunta invertirà all'interno di Excel i contenuti vedete in orizzontale e in verticale. A questo punto possiamo copiarli nuovamente, tornare in InDesign e visto che il numero di colonne da 4 diventerà 5 perché il numero di righe era 5, aggiungiamo una nuova colonna a destra. Togliamo l'ultima riga in modo che il numero di righe di colonna corrisponde alle nostre esigenze e a questo punto selezionando tutto il contenuto incolliamo quello che abbiamo fatto precedentemente in Excel. Ecco qua in un solo passaggio i codici presenti sulla prima riga, le descrizioni sulla seconda, le quantità e il prezzo. In modo molto semplice ed efficace. Supponiamo però di avere una tabella con una formattazione, per esempio una formattazione con stili di tabella e stili di cella che sono importanti per mantenere la formattazione del nostro testo all'interno della tabella. Vogliamo procedere con la stessa operazione precedente, quindi invertire le righe e le colonne. C'è un javascript gratuito che risale al 2006 che trovate sul sito di Ian Anderson, Fan with Staff, e potete installarlo in questo modo semplicemente selezionando la gabbia di testo che contiene la vostra tabella e lanciando il javascript che si chiama table transpose, in un solo passaggio avete ottenuto questo risultato senza perdere le caratteristiche grafiche di stili di cella e di tabella. Questo e molto di più potete imparare durante i nostri corsi e le nostre lezioni. Trovate tutti i dettagli sul sito www.studio361.it. Grazie!